Come hai detto che si chiama? Grangelato San Montana Come hai detto che si chiama? Grangelato San Montana Come hai detto che si chiama? Grangelato San Montana Come hai detto che si chiama? Come hai detto che si chiama? Grangelato San Montana Barattolino San Montana, grangelato all'italiana E ora alla scoperta dell'America, gran concorso San Montana Gusta e vinci all'italiana